...del film di Roma, presentato a The Last Session, il film con protagonista Helen Mirren. E' arrivata luminosissima sul red carpet del mito di fotografia e reporter, Helen Mirren, interprete del film nei panni della Contessa Sofia, moglie dello scrittore Tom Stoy. Noi l'abbiamo incontrata. E' una persona che è molto importante, come la Queen, e che è stata la vita di un vero importante man. Cosa è la transition di te? Well, Sofia Tolstoi è stata la sua vita, ma non era una normale tipo di una persona. E non era una normale tipo di una persona. E' stata una persona molto extrema. E' stata l'opposite da Queen Elizabeth II, che mi ha spiegato. As you can imagine, Elizabeth II was all about self-control and discipline and not expressing her emotion. And this woman is all about expressing her emotion and not hiding anything. So it was a very, very different character. And that was what I loved about it. And of course the role of a mother in this movie is also very important. I couldn't quite get method around that. She had, I think, a lot of children, 11 or 12 children, I can't quite remember now. But yes, absolutely. But the children, that relationship doesn't really play in the film. It's much more the relationship with her husband. Thank you very much. Thank you. Notte di stelle, red carpet pieno di sorprese, noi di cinematografo.tv c'eravamo. Non vi resta che augurarvi un buon proseguimento di festival in nostra compagnia. Per gli ulteriori aggiornamenti vi rimandiamo al sito www.cinematografo.it A domani.